Mercoledì 29 settembre, telespettatori di Video33 ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Cisle e Will, anche dall'Alto Adige, alla manifestazione del 9 di ottobre in piazza del Popolo a Roma per chiedere meno tasse su lavoro e pensioni. Rilanciare economie e consumi attraverso la riduzione della pressione fiscale. Meno tasse per pensionati, famiglie ed imprese e ancora lotta all'evasione e minore detrazione sul salario dei lavoratori dipendenti. Ecco la richiesta congiunta di Cisle e Will per un fisco più giusto insieme al prossimo 9 di ottobre in piazza del Popolo a Roma. Manifestazione a cui non mancheranno anche le delegazioni altoatesine dei due sindacati di categoria e le proposte anche a livello locale sembrano non mancare. La visione fiscale in Alto Adige è naturalmente uguale a quella che c'è nelle altre regioni, c'è però una fortuna che altre regioni non hanno, che una parte di questa pressione fiscale la provincia la può levare. Stiamo parlando dell'addizionale regionale IRPEF, sono circa 250-300 euro all'anno per i lavoratori e pensionati che sono quelli che all'84% contribuiscono al bilancio della provincia. E noi insistiamo fortemente di arrivare a questo risultato perché si è stata tolta l'IRAP alle imprese, in buona parte che con una diminuzione di entrate di 94 milioni, è chiaro che bisogna trovare anche 60 milioni per i lavoratori e i pensionati. La proposta è molto concreta, noi abbiamo già presentato l'altro ieri all'assessore Bizzo come arrivare a questo risultato, attraverso l'aumento del DRAP a banche e assicurazioni, l'aumento della tassa del volo auto per le macchine di grossa cilindrata, ma anche introducendo la tassa di soggiorno che c'è in tutta Europa, in modo tale che si faccia pagare ai turisti che vengono qui, inquinano, molte volte ci intasano le strade e molte volte sono anche un problema di spesa pubblica perché le manifestazioni che li attirano le paghiamo tutti, è giusto che lasciano qui una quota che poi possa essere portata in detrazione per i lavoratori e i pensionati. Ma anche i costi eccessivi della politica pesano sul bilancio generale, è stato infatti calcolato in 11 milioni il costo totale delle consulenze adottate ogni mese dalla provincia di Bolzano. Noi puntiamo a ridurre i comuni perché oggi i comuni sono dei centri di spesa troppo forti, in Alto Ase abbiamo 116 comuni, di questi ben 18 sono sotto i 1000 abitanti, noi pensiamo che iniziare un accorpamento sia indispensabile, a questo va aggiunto che spendono la provincia e i comuni troppo in consulenze, anche su questo noi chiediamo una netta riduzione delle consulenze e utilizzare di più le professionalità che ci sono nei comuni. Un problema dal quale non è esente nemmeno un territorio ricco come il nostro.